Per voi il massimale domenicale Come funziona questa mini serie del massimale domenicale? Porterò vari miei massimali e piano piano porterò i vari miglioramenti. Lo faccio principalmente perché spesso me li dimentico. Perché me li dimentico? Perché non mi interessa. Quindi per poter dimenticarmeli li documento qua. Semplice. Oggi massimali in piegamenti. Per ora più calma. Per ora più volta. all'altro. 3 3 3 4 6 7 8 9 12 13 14 16 15 16 17 18 18 19 19 19 21 21 23 24 25